ok ragazzi andiamo a concludere questa missione con questo gameplay e vediamo un po cos'è cosa devi fare tu ma stai fermo sia bene telecamere qui c'è la privacy è un ciccio non puoi riprendermi è solo un altro interruttore sapete cosa fare è solo cosa fare lo so sì cosa fare va ok a questo punto devo usare l'altro dinosauro qui ovvio adesso è morto con lui e c'è l'altro è ovvio ma è logico ragazzi non è che ci vuole molto è andiamo allora può seguire sci e vabbè vabbè con la b è normale normale che si fa con la b essendo sì l'odore del maiale anche perché mi sta venendo fame a pensare al maiale quindi ho fame ho fame voglio un po di maiale dove sei dove sei maiale eccolo qui sapevo che eri qui brutto maiale eccolo lì scappa ancora lui lui scappa ancora oggi ragazzi oggi non ha intenzione di farsi catturare no però io ho fame cosa devo fare voglio un po di maiale un po di maiale allora dove vado vai montiamo qui montiamo montiamo potete arrivare lassù dovete collaborare sì lo so che devo collaborare ma no a no devo vabbè puoi riscendere per favore no no non puoi e no scusa lascia un attimo ok vai fammeli salire grazie ok ora possiamo andare ora possiamo andare tranquillamente ora mi diverto ora mi diverto maiale se ti becco maiale sarai la mia cena e sì te lo posso garantire questo vediamo un po è ok salito maiale ti becco se ti becco la tua fine si scappa scappa vediamo se dure ancora molto vabbè andiamo ragazzi oramai il maiale fa quello che vuole scappa e vabbè ok vai raccogliamo un po distruggiamo un po di cose perfetto bisogna montare qualcosa oppure no pare di no però qualcosina bisogna fare non è che ce la caveremo con così poco insomma con un maiale e il maiale ragazzi è un animale fondamentale voi dovete saperlo questo quindi a cui bisogna montare la vedere e al di là di quel cancello lo so vai niente tu non ci vai di dare a devo far tutto io altrimenti tu da solo non puoi capire che devi fare possiamo andare stacchi non si stacca mai lui eh se non faccio io lui non ci pensate ragazzi ora ora mi diverto perché ora devo vedere cosa bisogna fare qui di preciso perché non è semplice ragazzi il maiale il maiale fa quello che vuole voi dovete saperlo questo vediamo cosa monta di bello eh vediamo cosa monta sì sì ottimo eh forse ho capito ragazzi non dico nulla ma forse ho capito sentiamo un po' l'odore qui no per vedere questo maiale dov'è maiale se ti becco se ti becco brutto maiale balordo cosa faccio qui faccio nulla eh no pare di no vediamo un po' qui ecco forse è risolto il problema no eh no ancora niente andiamo di qua esci fuori da qui maiale so che sei qui eh lo sapevo io fantastico ragazzi ah ok cosa facciamo andiamo al montaggio vai nell'immondizia vai nell'immondizia c'è qualcosa sì eh sapevo io monta tutto monta tutto bradone su eh ce n'hai da montare qui ragazzi non è semplice ullala ho capito già cosa fare ho già capito cosa fare però un attimo voglio raccogliere anche questo l'ho trovato eh se permetti un collezionabile non me lo perdo eh no non esiste ok ora mi servi tu ti uso solo perché mi servi altrimenti ti avrei lasciato volentieri lì eh allora ora mi diverto ragazzi vediamo cosa succede vediamo cosa succede ora fantastico è fantastico il maiale che nel frattempo che andiamo qui loro sono impegnati a vederli la carne e tutto il resto stai calmo stai calmo forza via ora ti mangiano dalla mano che cosa vuoi amico prova sul campo ho appena visto che rispondono ai comandi dobbiamo prendere la ricerca e metterla in pratica sono animali selvaggi hoskins non li volete sul campo fidatevi finalmente facciamo un passo avanti e qual è la prima cosa che dice fate un'arma signor greddy owen owen vorrei che venissi a vedere una cosa una nuova specie che abbiamo creato vorremmo valutare i punti vulnerabili del recinto l'indominus rex di che è fatta questa cosa genoma di base è del t-rex il resto è top secret dov'è era qui eravamo qui non ha alcun senso queste porte non vengono aperte da settimane ci sono sempre stati quei segni di artigli ok ragazzi io non so se proseguire a questo punto vediamo ma si dai proseguiamo dai calma vai ho detto che avrei finito questa missione con questo gameplay e così deve essere non credo mancherà poi molto quindi riuscirò a riempire la barra ragazzi questo non ve lo garantisco non ve lo garantisco però vi garantisco che concluderò questa missione su questo gameplay non ce la fai? ah devi metterti più di qua giustamente vai torna qui vai spacca tutto dna sta per domandate e noi aiutiamo dove noi sarei io ah possiamo scansionare giusto un attimo un attimo puoi portarci su quella torre? sì certo allora da che parte andiamo cosa c'è qui? vabbè qui occorre un dinosauro per proseguire lì non posso fare altrimenti quindi vai se ne occupa lui vedremo vedremo ok interruttori perfetto niente perfetto mi sono ricordato la combinazione ragazzi era molto semplice quindi non è stato un problema ecco quindi andiamo lo riprendo lui ecco vai vai chissà chissà vai riempirò la barra la vedo difficile la vedo difficile perché il livello è quasi finito secondo me vai grande brado mi dico anche grande da solo ragazzi 89.000 beh sono abbastanza crediti qui da aggiungere per fare i miei acquisti un po' più avanti magari vai ok vai nell'immondizia vai vai ricava qualcosa di buono per proseguire non ha preso nulla eh no parli di no ci penso io parli di no ecco anche lo scalatore lui attenzione perché non si scherza qui eh eh no eh no troverò troverò un modo per farvi passare tranquillo faccio passare io datemi tempo silenzio dovete stare zitti ai 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 cos'è cosa succede qui cosa succede andiamo qui che c'è eh no ma il buio non posso andare ah lui non monta ragazzi non può montare beh però può rompere qui ragazzi vai vai ragazzi saltate andiamo andiamo che mi serve una mano allora qui che c'è esci fuori allora vediamo un po' cosa succede ecco no è lui ma non è lui è lui allora è lui l'artefice ragazzi è lui vai ecco in due secondi ripara tutto cosa facciamo adesso bradone non lo so non lo so no andiamo uh la la ragazzi che stile vabbè sono riuscito nell'impresa dai senza cadere nell'acqua e beh ogni tanto riesco a fare le cose perfette no non andare dipende da cosa che tipo di dinosauro hanno creato in quel laboratorio 311 centrale operativa abbandonate subito il recinto 311 mi ricevi qual è il problema è nella gabbia e lì dentro con te se hai il t-rex nel suo dna è probabile che veda i movimenti camminare piano silenzio silenzio finirebbero divorati nessuno finirà divorato puoi scommettere certo che si uh la la 103.000 crediti eh forse rispondi la barra eh cioè ci provo non è sicuro però può provare no attenzione vediamo qui cosa bisogna fare va 107.000 guadalala ah no bisogna camminare proprio in punta di piedi così vabbè non so quanto manca ragazzi un po' lungo questo gameplay ma ve lo guarderete ugualmente per seguire la storia eh non so se ce la faccio eh l'impianto elettrico a riempire qui vabbè lo storditore per ricaricarlo va bene lo storditore ok ok dov'è lo storditore ragazzi c'è tu? c'è tu? non c'è nessuno eh beh vai fai qualcosa renditi utile ah devo tenere il premuto vabbè aiaiai questo è cattivo ragazzi questo è cattivo resta lì vai fultivamente da che parte vado cosa devo fare? non so se la direzione è giusta ragazzi però potrebbe anche essere vediamo un po' ci deve essere qualcosa qui dentro bel montaggio vai vai così risolviamo il problema magari magari ah ok ok ed eccolo che lui crede che lui crede che è un coniglio quello lì ma non lo è non lo è eh no mi dispiace per te ciccio ma vabbè la barra se continua così si riempie dai sta bloccando l'unica uscita allora sta il sì sta il sì l'alberello ragazzi vabbè qui è stato facile era impossibile mancarlo qui eh ma è la barra è quasi piena dai bradone che ce la fai dai bradone che è tua niente non ce la faccio dai manca poco manca poco grande ragazzi cosa faccio qui ora c'è da ridere ora c'è da ridere qui scendi giù fai il bravo eh ragazzi una piccola barra vero sopravvissuto sono contento eh sì ora c'è da ridere vabbè tutta questa carne ma dammela a me tutta questa carne vabbè è lì la carne basta che ti giri eh vabbè ma andiamo ora che distratto e ragazzi a me non mi bastano mai i soldi ne voglio ancora ah se ne occupa lui facilissimo ragazzi veramente facile si sta aprendo via andiamo 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 No! Evacuare l'isola. Ha un impianto nella schiena, posso individuarlo dalla sala controllo. Vai ragazzi, questo qui è stato un gameplay favoloso, eh. Non per dire, ma è stato un gameplay bellissimo, vai. Ulala, ma quanti crediti ragazzi, eh sì. Vai, personaggi sbloccati. Due. Eh, la barra è piena. Vero sopravvissuto. Minikit due. Eh sì, ricordavo bene, ricordavo bene. Vai. Altro personaggio sbloccato, uno e due. Forse anche tre, eh, vai. Facciamo quattro? Facciamo quattro, vai così. Uh, cinque ragazzi, che stile. E dammi anche un veicolo nuovo, dai. Due addirittura, ma dai. Ulala, sono tre. Non ci credo, ragazzi. E anche l'alberello, vabbè, ma era facile da trovare qui. Era veramente facile, lì. Non era molto complicato, eh. Quindi... Vai, due mattoni. Ne voglio due. Vai ragazzi, continua storia. Comunque il gioco è sempre più bello, eh. Più si va avanti, più è bello. Ok, allora, 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 allora. Vediamo un po', io credo che il gameplay si conclude qui, eh. Perché è stato abbastanza veramente corposo, ragazzi, eh. Non c'è nulla da dire, però... Dov'è che posso salvare la partita, magari? Tantà, tantà, non posso salvare qui. Non posso far così, però, vai. Facciamo... Salva i desci. Allora, ragazzi, anche questo gameplay di LEGO Jurassic World si conclude qui. Il vostro Diabrotex vi saluta per il momento. Ci sentiremo con i prossimi gameplay. Ciao a tutti, alla prossima, ragazzacci e ragazzacce. Ciao.